oggi 27 maggio festeggiamo san giulio martire del terzo secolo non abbiamo ancora avuto occasione di parlare di uno dei diversi santi di nome giulio e non vorremmo con ciò fare un torto ai tanti che col nome di giulio sono stati battezzati certamente affezionati al santo di cui ripetono il nome ma prima di tutto chi era san giulio anzi quanti sono i santi di nome giulio e questo perché non si potrebbe certo parlare di un san giulio come si parla di un san francesco o di un san pietro o di un san domenico certi cioè di non creare confusioni né di citare nomi sconosciuti o dimenticati eppure in tutto il mondo i giulio non sono meno numerosi dei franceschi e certamente più frequenti dei domenichi ma alla base della fortunata diffusione del nome di giulio c'è un altro personaggio storico grande ma non santo questo personaggio come si immagina il condottiero caio giulio cesare il fondatore dell'impero romano il conquistatore della ganglia oltre tutti i suoi meriti storici militari e politici egli è anche quello di aver lanciato due nomi che sono diventati presto popolari giulio e cesare ma teniamoci ai santi anche se questa volta il loro nome rimane nell'ombra di un uomo politico e di santi di nome giulio ce ne sono otto tutti combattenti vittoriosi come giulio cesare cioè tutti martiri meno uno che fu papa primo di una breve serie di tre succedutisi in dodici secoli sul trono pontificio il 12 aprile lasciamo in disparte san giulio primo papa per ricordare san zenone vescovo e patrono della città di verona e anche oggi san giulio rischia di essere oscurato da sambeda detto il venerabile dottore della chiesa e fortunato evangelizzatore dell'inghilterra del popolo inglese egli scrisse anche la prima accuratissima storia e fu uno degli uomini più attivi più colti del suo tempo nel suo prese oltre che nei calendari il suo nome è perciò un posto importante anche nella storia dell'inghilterra e della sua letteratura san giulio invece vissuto 300 anni prima del venerabile vedo alla fine del terzo secolo non aveva usato la penna ma la spada non era cioè uomo di cultura ma di armi viveva in mesia presso le foci del danubio ed aveva partecipato alle vittoriose campagne di galerio contro i persiani poi lo stesso galerio fatto imperatore aveva iniziato una persecuzione che miettè per i granai celesti larga messe tra i cristiani della mesia lasciamo ora che lo stesso san giulio ci parli della sua vita e della sua fede con le parole pronunziate davanti al prefetto massimo e tolte dall'antichissimo racconto della sua passio ho servito nel vostro esercito per 26 anni e non sono mai stato portato davanti al giudice come disonesto o litigioso sette volte sono stato in guerra e non sono rimasto dietro a nessuno come non mi sono mostrato inferiore a nessuno nelle battaglie il capitano non mi ha mai sorpreso in fallo eppure tu pensi che io dopo esser stato fedele in così e in cose di minore importanza possa dimostrarmi infedele in quelle tanto più alte a tempo debito ho lasciato la milizia e ora sono un veterano temendo dio che ha creato il cielo e la terra l'ho sempre adorato e adesso dimostro la mia sottomissione a lui sono cristiano e non posso dire di me altro che io non sia non ignoro gli editti che ordinano di sacrificare gli dei ma sono cristiano e non posso fare ciò che da me si vuole non è necessario che io rinneghi il dio vivo e vero perciò ti chiedo un giusto presidente di fare ciò che tu pensi per la sicurezza dei tuoi re e di emettere una sentenza contro di me così che i miei desideri siano compiuti se avrò ben meritato a sofferenza che mi aspetta me ne verrà gloria eterna in cielo e potrò vivere con i santi così parlò sereno e chiaro san giulio di mesia leale veterano dell'esercito imperiale prima di porger la testa al gladio del giustiziere accettando il martirio come degno compimento della sua carriera militare e luminoso inizio della sua nuova vita nella santità oggi festeggiamo san meda il venerabile confessore eduttore 672 735 san giovanni primo papa e martire nel 526 e tutti i santi del paradiso pregate per noi amico